Relativamente alle notizie riportate da alcuni organi di stampa via web sulla nuova modalità di raccolta differenziata, si precisa che quella alla quale si fa riferimento è una comunicazione interna all'Unione dei Comuni Alto Cilento, destinata a Presidente del Consiglio Unionale, Consiglieri e Sindaco di Agropoli. Il calendario di raccolta evidenziato nella stessa fa riferimento ad una bozza delle modifiche, che non sono da ritenersi perciò definitive. Le variazioni che subirà l'attuale calendario di conferimento, che resta quindi regolarmente in vigore fino a nuova comunicazione, verranno illustrate in un'apposita conferenza stampa, fissata per il 20 febbraio 2019 alle ore 11, presso l'Aula Consigliare del Comune di Agropoli.